Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio dei condotti EPS nella fattispecie le porcate della federazione se vi sono piaciuti i miei video precedenti vi ricordo di iscrivervi al canale e di visitare il nostro sito internet www.bordelanitalia.com oggi parlerò di una nuova porcata di Zatrek TNG nella fattispecie parlo del 23esimo episodio della quinta stagione Io Borg, la porcata di oggi ha a che fare con il cavallo di Troia staremo a bordo della nostra USS Relativity e andiamo a vedere cosa è successo Perché questa è una del cavallo di Troia? Vi ci conduco a poco a poco L'Enterprise si trova per una missione scientifica se non che Data capta una trasmissione quindi cercano di capire di che si tratta ed è in una delle lune del sistema che tra l'altro questa luna è di classe M adatta ad ospitare la vita ci vanno per capire che cos'è perché il segnale non era chiaro non era una classica richiesta di soccorso vanno e cosa trovano? Trovano dei Borg nella fattispecie ne trovano uno ancora vivo in gravissime condizioni, incosciente viene soccorso dalla dottoressa Crusher la dottoressa Crusher con il suo animo da Croce Rossina lo vuole stabilizzare nonostante che gli altri non siano molto d'accordo le sue condizioni sono disperate e Crusher dice di volerlo portare a bordo il capo della sicurezza Worf consiglia di ucciderlo basta alla fine Picard si passa la mano sulla coscienza e dice ok lo potete teletrasportare però in una cella di detenzione in cui chiede pure alla Forge di schermare con un campo di forza in modo tale che il drone non possa né inviare o ricevere comunicazioni in tutto ciò si vede che Picard è molto turbato da questa cosa ovviamente ricordiamo velocemente che il siso finale della terza stagione e il siso in premiere della quarta stagione non ricordo il titolo in italiano non ricordo solo in inglese the best of both worlds si vede che i Borg attaccano la federazione e riescono ad arrivare fino a Wolf 359 insomma alle porte con il sistema terrestre infatti da questo combattimento con i Borg si dà anche l'inizio a Star Trek Deep Space Nine che infatti cui ben si scoperte la moglie Jennifer Picard è turbato ovviamente se ne accorge Troy vabbè andiamo avanti il drone si trova in questa cella Crusher presta le sue cure riescono a stabilizzarlo se non che viene Picard subito e chiede alla Forge se ne sa abbastanza del sistema di programmazione Borg così chiede a poter scrivere un programma all'interno del drone che in qualche modo riesca a distruggere tutta la collettività la Forge dice beh essendo che i Borg sono così interconnessi tra di loro che qualunque informazione che il drone ha verrà subito propagato in tutta la collettività in pochissimo tempo Picard vuole utilizzare questo drone come cavallo di Troia in modo tale da modificare la sua programmazione mettere qualcosa che manda in confusione la collettività e distruggerla completamente quindi il nostro drone diventa di fatto un cavallo di Troia ne approfondiscono di queste storie del cavallo di Troia in un meeting in cui abbiamo due fazioni la fazione Peace and Love che è solamente il dottor Crusher è la fazione cavallo di Troia che sono più o meno tutti quanti addirittura anche Diana Troy Diana Troy non si capisce se è d'accordo col piano di Picard tuttavia in modo che lei ha di parlare io direi che lei non le dispiace più di tanto Picard dice che un'azione di questo tipo annientare un'intera razza in genere è inconcepibile però se si tratta di Borg tutto è concesso perché lui sostiene che in fondo siamo in guerra anche se una dichiarazione di quella formata non c'è mai stata però vabbè e questo lo dico anche nel meeting però loro sono in guerra Crusher prova a dire infatti che anche in guerra ci sono delle regole ma se ne stanno fuori Gainan durante una sessione di scherma con Picard mostra i suoi dubbi a Picard dicendo ehi so che c'è un ospite a bordo e Picard dice si va bene era pregione umanitaria e Gainan dice ah per agione umanitaria e Gainan fa ok riprendiamo a giocare mentre loro stanno facendo colpi di spada perché stanno facendo scherma Gainan finge di essersi ferita e Picard si ferma perché non lo sa chi è finge se non chiede Gainan gli dà un fendente e Gainan dice lei ha avuto pietà di me e io io l'ho messo in quel posto il drone nel frattempo si sveglia minaccia un po' di voler assimilare tutti vabbè tanto quello è chiuso in un campo di forza Giordi gli dà una presa di energia così che come dice Picard lo sfamano però Giordi in una discussione con la dottoressa Crusher dice che gli sta razionando l'energia così che quando lui collabora gliela dà quando non collabora gliela toglie beh un po' come si fa con un cagnolino no? drone vieni qua drone vieni qua giù drone giù giù drone giù no giù drone giù 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 di tuo biscottino giù drone bravo drone bravo drone hai collaborato mentre loro iniziano a studiarlo si capisce qual è il nome del drone sappiamo che i droni borg non hanno nomi ma benzi designazioni il drone si chiama 3d5 iniziano a fargli delle analisi perché praticamente giù lo deve analizzare prima di poter sviluppare questo programma distruttivo questo che di fatto è un virus per computer mentre lo analizzano il drone chiede quale fossero le designazioni di Crusher e di la Forge gli spiegano che loro non hanno designazioni ma hanno nomi e Crusher gli dice io mi chiamo Beverly la Forge gli dice io mi chiamo Giordi e tu e tu e tu e tu basta alla fine lo chiamano Tug c'è stato secondo me un po' di incomprensione e è stato forse il nome Tug ora si chiama il drone da 3d5 a un nome si chiama Tug a poco a poco Giordi trascorrendo più tempo con il drone inizia a passare dalla fazione Piselov perché si è affezionato beh mettiamo che si è affezionato non lo vuole più ammazzare anzi non lo vuole più utilizzare come cavallo di troia si affeziona soprattutto quando Tug gli fa questa domanda quando tu hai finito di fare queste analisi cosa ne sarà di me e Giordi in maniera molto ipocrite risponde ritornerà alla collettività che di fatto è vero però non gli dice che ritorna alla collettività come un cavallo di troia Giordi convita i suoi dubbi con Gainan Gainan all'inizio era molto arrabbiata quello è un drone borg quello è cattivo vuole assimilare tutti i borg non hanno avuto pieda quando sono venuti nel nostro sistema solare distruggere tutti infatti si sa che Gainan è una elaureana si sono dovuti sfarpagliare in tutto il quadrante perché i borg avevano attaccato tanto tempo prima il loro pianeta Giordi dice ok capisco che tu hai problemi con i borg per quello che ti hanno fatto però vai a fare quattro chiacchiere con lui mentre Gainan va a parlare con Tug i sensori dell'enterprise scoprono che un vascello borg un cubo sta per arrivare nel sistema per recuperare i droni che erano morti perché ricordiamo che i borg recuperano sempre i droni morti Gainan parla con Tug e passa dalla fazione cavallo di troia alla fazione pisellov Gainan vi rendete conto quindi dopo che Gainan finisce di parlare con Tug la Forge e Dara discutono con Picardi il loro piano praticamente loro vogliono installare nel drone un paradosso spaziale una figura geometrica paradossale quando Tug va dalla collettività e condividerà questa informazione la collettività cercherà di analizzarle e trovare un risultato ma siccome è un paradosso non ci sono risultati per quel paradosso quindi i computer della collettività dovrebbero fare i tilt quando finiscono il meeting Gior dice a Picardi se è la cosa giusta da fare Picardi taglia a corto e dice che in passato quando si eseguivano esperimenti sugli animali i scienziati si affezionavano alle loro cavie quando poi queste cavie dovevano essere uccise era un problema quindi Picardi dice distaccati emotivamente da questo drone perché alla fine è sempre un borg dopo questa discussione Gainan vada dall'alloggio di Picardi e gli dice di essere passata la fazione Pisellou Picardi dice ma come è possibile proprio tu Gainan gli dice che ti ha parlato e che non vede in quella persona un problema quando lei dice la parola persona Picardi esplode perché dice che non è una persona alla fine Gainan gli dice vacci a parlare in qualche modo Picardi si fa convincere e fa venire Tugu nel suo ufficio Tugu lo riconosce ma non come Picardi ma come Locutus del Borg e gli chiede cosa sta facendo là Picardi prende la palla al balzo e gli dice guarda sono qua sotto copertura e quindi Picardi gli dice di prepararsi ad assimilare questa astronave Tugu gli dice non vuoi assimilare questa astronave e Picardi dice ma questo allora è veramente diventato un individuo non è più un burattino della collettività ma è diventato un individuo e anche Picardi passa quindi ora dalla fazione Pisellou e con Picardi passano tutti gli altri Troi Rager tutti quanti adesso resta capire cosa fare di questo drone perché essendo un individuo non lo vogliono più utilizzare come cavallo di Troia basta alla fine decidono che non è stato in quel programma che generava quel paradosso gli chiedono se vuole ristare sull'Ender Prize oppure se ne vuole tornare alla collettività effettivamente Tugu vorrebbe rimanere sull'Ender Prize assieme a Giordi che ormai erano diventati amici però lui dice guarda a me la collettività mi verrà a cercare sarebbe troppo pericoloso per voi e quindi pericoloso per Giordi decide di tornare lo riaccompagnano e la collettività se lo porta e voi direte beh perché un cavallo di Troia alla fine non hanno installato il loro programma di distruzione di massa e non è così perché praticamente Tug porta con sé comunque le memorie di quando è diventato un individuo e le porta alla collettività e infatti questo ha un effetto un po' catastrofico alla fine instillando il desiderio di individualità hanno fatto comunque dei casini e comunque hanno fatto un cavallo di Troia meno potente di quello di prima ma comunque hanno fatto un cavallo di Troia mettendogli nella sua testa i valori umani qual è la conseguenza di tutto ciò? la conseguenza di tutto ciò è il season finale della sesta stagione sempre di TNG e di conseguenza il season premiere della settima stagione il ritorno dei Borg Lord il fratello di Data trovò questo vascello Borg che è il vascello che aveva preso Tug completamente allo sfacello perché i pensieri di Tug di individuo si sono propagati in quel vascello e quindi erano tutti persi o ne avevano una guida e loro fanno in loro una guida e lì ci sono stati altri casini bla 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 spoiler alert Tug poi si vede il satrack Picard al comando del programma degli ex B erano gli ex Borg che i romulani stavano portando avanti che poi alla fine e non vi dico da chi sì questo episodio ha tante conseguenze perché alla fine il loro piano di avere un cavallo di Troia nella collettività sono riusciti ad averlo e tu cosa ne pensi tutto ciò? interessante sì abbastanza molto bene se vi è piaciuto questo video vi ricordo di iscrivervi al canale visitare il sito internet www.borderlineitalia.com e ci vediamo con la prossima porcare della federazione www.borderlineitalia.com Grazie a tutti